buongiorno a tutti sono andrea carretti e questa è la seconda puntata di radio sorgente aosta un progetto voluto dalla cooperativa sociale la sorgente di aosta e il centro di urno per l'autismo mio sotisse cinque gli speaker di oggi che ci faranno recensioni di film e manga raccontandoci come hanno visto questi film se ne vale la pena se sono interessanti facendo una critica magari anche raccontandoci dei retroscena interessanti e allora partiamo con alessio arzu che ci parla di halloween 2 vai ale salve a tutti sono alessio arzu uno speaker di radio sorgente aosta in questa recensione tratterò halloween 2 del 1981 buon ascolto halloween 2 film del 1981 è diretto da rick rosenthal ambientato sempre a edonfield la stessa notte il dottor sam loomis ha appena sparato a michael myers facendolo cadere dal balcone salvando la giovane lori strode da morte certa loomis si precipita dove è caduto michael e non trova il corpo e sa che michael ancora vive subito dopo loomis scopre i colpi delle prime tre vittime del primo film annie bracket linda e robert intanto nell'ospedale psichiatrico smith's glove nella stanza di michael melian crane che è una collega del dottor rumis scopre una scritta sulla porta che recita sister si scoprirà che lui è in realtà la sorella minore di michael conosciuta come sin sien ed è ancora vivo michael per terminare il lavoro iniziato 15 anni prima quando ha ucciso sua sorella maggiore judith michael viene creduto morto in seguito all'esplosione dell'ospedale e anche il dottor rumis è deceduto nell'esplosione curiosità la maschera utilizzata in questo film è la stessa del 1978 cioè del primo film ma con negli ultimi tre anni passati tra la camera da etto di debra hill che è la regista insieme a john carpenter del primo film e il retro di un pick up è cambiata in tutto si è impolverata e su di essa è cambiata pure l'espressione infatti risulta più gialla con dei dettagli della bocca che nel primo film non erano visionabili grazie grazie alessio io non avevo mai visto questo film ma adesso mi ha incuriosito anche se il genere non è proprio dei miei preferiti andiamo ad alessandro jotaz che ci parla di balla coi lupi salve a tutti e bentornati io sono alessandro jotaz uno speaker di radio sorgente osta oggi vi parlerò di un film del 1990 tratto dal romanzo di michael blake balla coi lupi diretto e interpretato da kevin costner con mary kelly donnell e graham green partiamo con la trama nel 1863 durante la guerra civile americana il tenente john dunberg viene trasferito in un avamposto sperduto nel west nella quale conoscerà ed entrerà a far parte di una tribù di pelle rossa come sempre prima di passare al mio parere vi racconto qualche curiosità sul film innanzitutto il film è uno dei soli tre western della storia del cinema ad aver vinto l'oscar per il miglior film gli altri due sono i pionieri del west uscito nel 1931 e gli spietati di clint eastwood uscito nel 1992 se non erro quindi due anni dopo poi balla coi lupi è anche uno dei soli tre film ad essere diretti e interpretati da kevin costner gli altri due sono l'uomo del giorno dopo uscito nel 1997 e terra di confine uscito nel 2003 nel 2003 è uscita la director scat del film lunga quasi quattro ore in pratica aggiunge una cinquantina di minuti in più rispetto alla versione cinematografica che dura tre ore passando al mio parere il film è bello non è né lento né veloce ma è bello se dovessi dire la mia scena preferita del film direi la scena in cui il protagonista cerca di comunicare con i pelle rossa imitando un bisonte bello voto 8 e mezzo per concludere se non avete niente da fare guardate questo film se non l'avete ancora visto ovviamente e basta così io ho finito vi saluto e ci sentiamo alla prossima con un film molto particolare grazie grazie alessandro di averci raccontato di un cult del cinema mondiale dall'horror siamo passati all'azione e andiamo al cartoon perché il nostro joel brady ci parla di lego movie ascoltiamo mi chiamo joel brady ci sono uno speaker di radio sorgente a osta parliamo di lego movie fatto nel 2014 delle linee piovono polpette il film viene realizzato con l'utilizzo di tecnica top motion e live version dal film la società del lego ha prodotto un set di giochi ecco la trama all'interno del mondo mantucini lego l'anziano mago vitruius tenta di proteggere superarma chiamata agricole delle grinfie del mangaccio e diavolo criminale loro business ma nello scontro il cattivo riesce comunque a prendere l'arma accettando il mago con l'irrasa scofitto vitruius racconta loro business di una processia che narra la gesta lo speciale il perso forte e sarebbe diventato speciale perché lui diventa speciale perché non come tutte le otto anni e mezzo dopo alle la città di lego sì ma è temente ma tu no schi un semplice operaio dire sarà perché non mi stai un film nel quale che non diciamo altro non fare sport del lego movie da un film da vedere grazie a tutti la prossima puntata bravo joelle ricordo di aver visto questo film al cinema con i miei figli torniamo all'avventura e già perché alex gerbor ci continua a parlare di jurassic park ciao a tutti sono alex gerbor uno speaker di radio sorgente ostra ed ecco qua le altre parti di jurassic park 1 ci spostiamo direttamente in un sito paleontologo dove lì ci sono probabilmente i nostri due protagonisti alan grant e lee sattler poi all'improvviso arriva l'elicottero di non hamel e decide magari di aiutare i due di venire a isla nublar ma loro non volgono io no però poi decidono di venire visto che ovviamente darà pure dei soldi per aiutare visto che avevano pure mancati i fondi quindi tutti quanti verso isla nublar dove lì facciamo la conoscenza di al malcon e uno degli avvocati di john hammond arrivati sull'isola si prendono nel jeep e lì possiamo vedere un paesaggio pieno di dinosauri tutti quanti sono stupiti nel vedere questi dinosauri biogenici e quindi vogliono chiedere a john hammond perché e allora loro vanno 30 100 visitatori dove spiega con un video e con un grazie a un personaggino molto molto animato chiamato mister dna che spiega ovviamente come è potuto succedere poi ci spostiamo in un laboratorio genetico dove gli facciamo la conoscenza del dottor vu che lo rivedremo altre volte nella saga qui john hammond spiega che tutti quanti dinosauri sono femmine perché se fossero sia maschi che femmine si sarebbero riprodotti e questo avrebbe un po incontorto un po la sicurezza quindi ovviamente fanno tipo probabilmente loro vedono per la prima volta la nascita di un dinosauro bensì un veloci raptor arrivati nel recinto di lato si fa la conoscenza di uno dei ranger che ha visto la morte del del signore del prologo dopo aver dato da mangiare dopo aver visto dopo aver visto una una mucca smanata i raptor per dargli da mangiare facciamo la conoscenza degli impontini del signor hammond team e l'ex dopo aver rifatto la conoscenza dei due piccoletti si vedono delle macchine che faranno il tour del parco e ovviamente non sono pilotare da nessuno cioè probabilmente sono probabilmente pilotate da binari arrivando però non vedo nessun dinosauro però è lì sattler probabilmente si stacca dal gruppo perché vuole aiutare un pallo veterinario a curare un dino uno dei triceracoghi che è stato malato a causa di una pianta non commessibile alla sua specie però uno degli informatici devil devil ovviamente è un impostore una talpa un impostore una talpa inviata da biosin sotto copertura la biosin è la rivale della ingen e ora l'embronino sauro per avere un parco tutto suo ovviamente disattiva il sistema di sicurezza per prendere l'embronino la camera rificinatoria però ha disattivando il sistema di sicurezza ha anche disattivato l'elettricità perciò lui si perde nel recinto dei dilophosauri dove viene ucciso so brutalmente non veloci l'altro beh ovviamente dopo averli sputato ovviamente già parlato che l'iniezione dei geni di rana dentro i geni dilophosauri ha portato dei cambiamenti nei dinosauri come apparivano in passato soprattutto questo è il aggiornamento più classico dei dilophosauri ovviamente il resto del gruppo viene attaccato dal t-rex che esce fuori dal della suo fattato attaccando e ovviamente il ma l'avvocato di john amon viene mangiato ovviamente team probabilmente si scopre che ovviamente il t-rex può vedere solo i movimenti perciò ovviamente i almancon si probabilmente viene tipo ferito dal t-rex distraendolo mentre il nostro carissimo alan grant salva l'ex ovviamente c'è dentro pure team e quindi muta pure l'ex per non farla sentire la macchina con un token cade e ovviamente si sacrificano sicuramente loro si salvano mentre rialmanco rimanerà sulla strada arriva poi è il sattler e john amon a prenderlo per poi vengono inseguiti team team jeep dal t-rex salvandosi dopo aver capito che ovviamente ovviamente passiamo dopo di che alan grant e team lx dove dopo aver scappati da una mandria di gallinus e anche dal t-rex perché li stava seguendo a ruota non so uno degli scienziati che doveva andare a rimettere appunto l'elettricità non non è più tornato quindi il ranger e elisatler vanno scoprendo che ovviamente elisatler ha scoperto che il lo scienziato è morto vivo sbranato dai raptor mentre team è quasi morto per l'elettricità mentre john hammond e ian marcon sono là dentro elisatler che poi ovviamente ci sarà pure alan e teamerlex raggiunge il centro visitatore così si alan va alla ricerca di elis mentre teamerlex si strafugano sul buffet vedendo che un veloci raptor è arrivato si nascondono in cucina ma non è solo c'è anche l'altro così dopo essere sfuggiti ai raptor i due grandi vanno con i due grandi vanno verso il centro di di sistemi dove lì dove i veloci raptor stanno cercando di aprire la porta durante il sistema team lex riesce a far ripartire il sistema ma però i veloci raptor raggiungono sembra per i due grandi e per i due bambini sembra che sia finita ma il t-rex arriva e li salva poi in una jeep john hammond assieme a il mal conferito raggiungono l'elicottero durante il volo lo si vedono dei dei pterodattili che vanno non verso fuori da isla noblar dove lì dovranno andare verso una muova va via e dove andranno beh non si sa però sa che ovviamente alan grant questa sarà un'avventura che alan grant e lì satel e gli altri non dimenticheranno mai ci si vede tra po ci faremo anche l'altra parte della timeline jurassic park game grazie grazie alex quanti sono i ragazzi bambini che dopo jurassic park e si sono affezionati ai dinosauri hanno riempito le case di gadget mostruosi andiamo da davide ponza ascoltiamo il castello invisibile detto anche il castello di cristina la donna invisibile i temi di questo manga sono burlismo amicizia paradosso temporale fantasia e scuola media la trama di questo manga parla di una ragazzina di 13 anni che si chiama coccolo e trascorre le sue settimane in casa per il fatto che a scuola ha avuto dei momenti difficili presi in giro e tradimento quindi sottolinea la trama e scopre che dall'altra parte c'è un castello maestoso e divino sorvegliata da una ragazza lupo e ci sono anche altri ragazzi dovranno trovare una chiave per aprire la porta e risaudire un desiderio qualsiasi i personaggi di questo manga sono kokoro una ragazza che ha avuto delle scene orribili della sua classe ma poi si è fatta dei nuovi amici nel castello invisibile anche una ragazza molto sicura di sé socievole e amichevole fuga una ragazza sincera sicura e sensibile aiuta con quello con dei consigli amichevoli e la consola un riuscino un ragazzo che cerca di conquistare le ragazze ma zamone un video gamer capabile e tenace e poi ovviamente ci sono raiolo e subaru ma poi c'è un altro personaggio di questo manga ovvero ne mangio mille al giorno vuoi sapere perché sei tutta naturale niente meglio di te hai poche calorie giuste giuste per me quando non ti senti a tremo svengo sai perché sono musicata solo per te liquirizia pura questo è un sogno per me che rabbia se mancassi se non fusi con me e lo sapevo il nostro davide come sempre ci riserva qualche scherzo in fondo al suo pezzo tra l'altro l'unico che non parlava di film cinema ma di manga grazie davide ci fai sempre molto molto divertire termina così la seconda puntata di radio sorgente a osta il progetto voluto dalla cooperativa sociale la sorgente di a osta il centro di urno per l'autismo mio sottis io sono andrea carretti e ringrazio i miei cinque speaker di oggi alessio joel alex alessandro e davide l'appuntamento tra un mesetto circa per la terza puntata di radio sorgente a osta grazie a tutti grazie a tutti